Premiati 86 studenti toscani, vincitori del concorso Intercultura, che hanno vinto una borsa di studio per trascorrere un periodo scolastico all'estero. La premiazione si svolta nell'auditorium spadolinea Palazzo del Pegaso e dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale, con i giovani premiati sono intervenuti Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura, ed Elisabetta Di Maggio, ricercatrice dell'Università di Pisa, già partecipante ad un progetto di Intercultura in Danimarca, che ha intervistato Giacomo Melani, ricercatore del CNR di Pisa e volontario di Intercultura a Livorno, già partecipante ad un programma in Australia nel 2007. La Toscana è protagonista di uno scambio interculturale straordinario, oltre 130 ragazzi toscani che avranno un'opportunità di frequentare le scuole all'estero, nel contempo altri ragazzi stranieri verranno in Toscana e studeranno ospiti delle nostre famiglie. La Toscana è una terra aperta, in grado di crescere mediante l'interscambio culturale, ma soprattutto a crescere. Sono i ragazzi e le ragazze toscane che godono di un'opportunità straordinaria, che noi premiamo in Consiglio regionale per dare loro questo beneficio, questo risalto di un'iniziativa, quella dell'intercultura, che vive da molti anni nel nostro territorio, sul livello nazionale e che oggi la Toscana vuole premiare per riconoscere la grande valenza di natura culturale. Questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con intercultura da tutta la Toscana e loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. Quindi noi pensiamo che questo possa dare un valore aggiunto al territorio, nel senso che quando torneranno potranno anche portare un contributo di confronto con tutti i loro compagni, con le famiglie, con gli amici, con tutta la comunità scolastica qui in Toscana. Noi abbiamo oltre 60 partner in tutto il mondo, in tutti i continenti, principalmente ci sono ancora gli Stati Uniti e il Canada, ma sempre di più anche l'Argentina, il Brasile, la Cina, quindi sono moltissimi i paesi nei quali gli studenti si confronteranno nei prossimi mesi. Il progetto prevede che anche Intercultura ha ospiti in Italia studenti da tutto il mondo e quindi noi ci aspettiamo in Toscana più di 30 studenti che vengono dall'Asia, dall'America Latina, dagli Stati Uniti e che verranno ospitati in famiglie toscane e andranno a scuola. Anzi, questa opportunità di far vivere e conoscere la Toscana a questi studenti da tutto il mondo è ancora aperta e quindi invito tutte le famiglie toscane che hanno interesse, l'idea di ospitare un'altra persona che viene da un'altra parte del mondo, di aprire le loro porte, di far conoscere sia il progetto educativo di Intercultura sia poi il territorio nel quale viviamo e che tutti apprezziamo. Sono la Presidente del Centro Locale di Pisa e sono ex borsista partita nel 2004-2005 per un annuale in Danimarca, dalla Puglia devo dire. Sicuramente è un trampolino di lancio per il loro percorso futuro. Cominciano all'età di 15-16 anni a vedere un'altra parte del mondo, a capire che lontano può essere anche poco al di là di casa loro e a apprendere come una cultura diversa possa cambiargli completamente la vita. E da lì rientrare è un gioco da ragazzi, devo dire, perché poi ogni percorso e ogni ostacolo del futuro si affrontano con uno spirito diverso. I ragazzi partono per l'Europa, per programmi dall'estivo fino all'annuale, quindi l'intero anno scolastico, ma abbiamo anche dei programmi in Asia, in Oceania e quindi anche Africa, America del Nord e America del Sud. Abbracciamo tutto il mondo, devo dire, con questi programmi. L'elezione Intercultura intanto si svolge nel mese di novembre di ogni anno. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono e valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Quest'anno partiranno circa 2000 studenti e sono stati selezionati da tutte le scuole d'Italia e chiaramente partiranno quelli che sono più meritevoli e più idonei a questo tipo di programmi. Le sfide di una nuova mobilità che faccia a meno dei combustibili fossili, il futuro, ma anche il presente dei veicoli elettrici. Questo è il soggetto al centro del libro di Ugo Bardi, Il futuro del trasporto. Come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita, presentato il 14 maggio nella Sala Fanfani a Palazzo del Pegaso. È una rivoluzione, è il punto focale, è il punto centrale del dibattito che stiamo facendo oggi. Se parliamo di transizione verde dobbiamo in qualche modo eliminare l'uso dei combustibili fossili. Ora il mezzo elettrico, non necessariamente un'automobile, ma in parte anche sia un'automobile, è il punto focale della transizione perché se non ci liberiamo del combustibile principale, cioè quello che dà i maggiori profitti all'industria petrolifera, all'industria dei combustibili fossili, quello che è il petrolio dal quale si fa benzina e gasolio, a quel punto non avanzeremo veramente nella transizione. Quindi questo è il punto centrale e anche la ragione perché c'è tanta pubblicità denigratoria nei riguardi delle auto elettriche è perché funzionano e sono un rischio per quelli che oggi hanno i loro profitti sul petrolio. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali del Consiglio Regionale, è intervenuta l'assessore all'ambiente della Giunta Toscana. È una sfida, è una scommessa, ma soprattutto riteniamo sia un appuntamento che non ci possiamo permettere di mancare e servono elementi di approfondimento, di conoscenza, di valutazione anche per aprire un dibattito, per raccogliere le varie opinioni e per mettere in condizioni soprattutto alle cittadine e alle cittadine di avere una consapevolezza rispetto a questi argomenti. Uno dei tratti maggiormente interessanti dal mio punto di vista di questo libro è che ad esempio vengono forniti elementi di valutazione rispetto anche a quelle che potremmo definire le fake news piuttosto che le narrazioni spesso strumentali, come dice il Professor Bardi, rispetto a questo argomento. Quindi è un libro ben scritto, interessante e che offre appunto un'occasione per avere elementi di valutazione e noi siamo ben lieti di ospitare anche questo tipo di approfondimento e di dibattito per permettere a tutti di farsi un'opinione. Per affrontare la conversione energetica in particolare ma la transizione in generale noi diciamo sempre che serve una cassetta degli attrezzi nuova, non si aggiusta al futuro con gli attrezzi vecchi e certamente l'informazione è uno degli strumenti essenziali per affrontare questo percorso di cambiamento incredibile che ha necessità di coinvolgimento della cittadinanza e ha necessità anche di uno sguardo il più possibile integrale e integrato che è quello che riguarda un aspetto fondamentale della conversione che è la mobilità, questo libro che è anche uno strumento di lavoro ci offre. Abbiamo bisogno di combattere i pregiudizi delle persone che hanno paura della transizione, hanno paura di non avere accesso alla transizione, soprattutto quando si parla di mobilità, ci sono cattive informazioni, c'è male informazioni, spesso anche costruita ad arte, sembra che la transizione verso la mobilità elettrica sia per pochi che lascia indietro molti, che sia un fatto che riguarda soltanto chi se lo può permettere. Il tema è un po' più complesso e questo libro offre molti spunti, molti punti di riferimento e smonta molte teorie che ci fanno pensare che non sia possibile, che sia una belleità pensare di poter passare all'elettrico. È un tema fondamentale invece che ha a che fare con un pianeta più pulito, con la nostra salute e ovviamente con il modo di vivere anche le nostre città che stanno in pieno dentro la transizione. Acqua e Contenziosi, cresce il ricorso dei cittadini toscani alla conciliazione extragiudiziaria, soprattutto per fatture e addebiti per perdite occulte a valle del contatore. Lo rendono noto i tre soggetti a disposizione degli utenti, Difesa Civica Toscana, Autorità Idrica Toscana e Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che hanno presentato a Palazzo del Pegaso i dati dell'attività svolta nel 2023. Stamattina ospitiamo come Difensore Civico questa tavola rotonda sulla conciliazione nell'ambito del settore idrico. È un'attività per noi molto importante e servirà oggi per fare il punto sulla situazione, quali sono i dati, il procedimento. Il Difensore Civico, attraverso i suoi funzionari, svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano e proprio ieri, in occasione della illustrazione della relazione annuale, abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di IT. Anche i numeri sono soddisfacenti perché su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del Difensore Civico e quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Quindi sarà una bella occasione anche per ribadire il nostro impegno su questa attività. Oggi si illustra quella che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime, che è quella del sistema della conciliazione con un organismo appositamente creato in Toscana, gestito dall'autorità etica toscana insieme al Difensore Civico e ai gestori del servizio idrico integrato e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione, un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo. Con l'incontro finale al Cinema della Compagnia di Firenze si è conclusa la prima esperienza di Generazione Toscana. La Toscana raccontata dalla Generazione Z, 200 ragazzi di 10 scuole toscane che si sono incontrati per presentare le bellezze del proprio territorio e scoprire quelle degli altri. Un progetto che ha visto incontri incrociati tra classi dei 10 istituti, uno per ogni provincia toscana. Al Cinema della Compagnia erano presenti 200 ragazzi, accolti dal Vicepresidente del Consiglio regionale. Da una cui idea è partito il progetto, dal direttore di Fondazione Sistema Toscana e dal dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico regionale. Un progetto straordinario, una giornata bellissima, emozionante, dove oltre 200 ragazzi della Toscana sono entrati in relazione con se stessi, con il proprio territorio, con gli altri, sono fatti carico di raccontare la propria storia, il proprio territorio e nello stesso tempo acquisire la coscienza della propria identità toscana. Era una mia intuizione un po' difficile da concretizzare, da trasformare in legge e poi da fare in modo che i ragazzi sentissero proprio. Penso ci siamo riusciti, la giornata di oggi dimostra quanto a volte anche un piccolo sogno, un'idea può trasformarsi in un'esperienza che mi auguro, mi auguro veramente, possa essere replicata, messa a sistema e realizzata ogni anno perché ogni anno i ragazzi da Toscana possono vivere queste esperienze. È stata una maratona corta ma molto intensa, quindi concentrata, era un progetto molto bello, ci ha soddisfatto molto, fondazione con tutto lo staff, Adriana Riccesare e Sascha Alberti, ha seguito questo progetto col vicepresidente Scaramelli fin dall'inizio, abbiamo lavorato quindi benissimo con il consiglio, benissimo con le scuole, ottenendo un bel risultato perché il tema era il ragionamento sull'identità territoriale toscana diffusa e da coinvolgere i ragazzi nel capire quali erano per loro i principali punti di interesse e punti identitari dei loro territori e è venuto fuori qualcosa di sorprendente perché quello che ci ha interessato è capire come l'identità percepita dai ragazzi è un'identità contemporanea che quindi fa base sulla storia, fa base sul paesaggio ma le rielabora rispetto ai valori della loro generazione, è stato veramente bello e interessante, i risultati si vedono sulla piattaforma che resta online, aperta, quindi accessibile e c'è un coinvolgimento pieno per i ragazzi è stata la scoperta di cose che non immaginavano, ho sentito alcuni commenti di ragazzi che sono andati in giro e hanno detto non pensavamo fosse così bello e al contempo però è anche stata la prima esperienza, una delle prime esperienze semilavorative nel senso che hanno dovuto organizzare un tour per le scuole che accoglievano nella loro provincia quindi hanno iniziato a sperimentarsi con problemi di organizzazione, aspetti di organizzazione e quindi di gestione di un progetto e infine hanno anche apprezzato non soltanto come fanno le terze, le quarte e soprattutto i viaggi all'estero ma hanno riapprezzato i viaggi in Toscana sapendo che molte cose non sono note e quindi c'è da vedere tantissimo, quindi veramente alcuni aspetti importanti, lo sforzo è stato forte per fondazione, impegnativo, con grande soddisfazione e ci auguriamo che tutto questo sforzo possa continuare anche negli anni successivi e perché sarebbe un peccato di sperdere il patrimonio di conoscenze acquisite. È stato un progetto molto interessante, un'idea brillante da parte dell'ufficio di presidenza e vicepresidenza del Consiglio regionale per la Toscana che ha trovato dei collaboratori nella fondazione Sistema Toscana e nell'ufficio scolastico regionale che si sono adoperati affinché veramente le dieci scuole provenienti dalle dieci province coinvolgessero al meglio gli oltre duecento ragazze e ragazzi che hanno potuto essere esploratori e narratori del loro territorio. Veramente un'iniziativa lodevole che porta ad una conoscenza profonda del territorio della nostra regione e dove veramente le nostre studentesse e i nostri studenti partendo dalla conoscenza di loro stessi e del loro territorio possono attivarsi per conoscere ancora altri e altri mondi, migliorare le loro competenze e stringere relazioni con i loro coetanei.